Per gli oltre 1.600 studenti del liceo scientifico Galileo Galilei di Pescara, quella di questa mattina è stata la prima campanella di un nuovo anno scolastico che si apre in un clima di ritrovata normalità. Le 65 classi dello scientifico, divise tra la sede di via Balilla dove alloggiano 12 prime e 6 seconde e quelle di via Vespucci dove si trovano le restanti 47 classi, tra cui le quinte, questa mattina sono state accolte dal dirigente scolastico Carlo Cappello, impegnato in un giro di saluti di benvenuto tra le aule dei due plessi. Come mai questa scelta di rientrare il sabato? Noi abbiamo anticipato di un giorno per salutare soprattutto le classi prime. Sarà l'unico sabato dell'anno scolastico. Abbiamo deciso di anticipare questa giornata per dar loro la possibilità anche alle famiglie di accogliere meglio questo nuovo inizio insomma dopo un periodo un po' difficile che i ragazzi hanno trascorso in questo caso durante il periodo delle scuole medie. Volevamo dar loro la possibilità di vedere che cosa significava iniziare questo percorso. È stata una scelta più che altro organizzativa per permetterci appunto di dar loro più spazio e dare più spazio e tempo anche al saluto nelle singole classi e all'accoglienza e alla spiegazione di quelle che sono le nuove realtà che si troveranno di fronte questi ragazzi. Chiusa la parentesi dell'emergenza sanitaria ma non ancora archiviata restano pochi accorgimenti tra cui i sanificatori d'aria nelle aule unitamente al richiamo alla responsabilità di ciascuno mentre ora con l'autunno alle porte e lo spauracchio dell'inverno ci si prepara a mettere in campo strategie di sopravvivenza alla crisi energetica anche nelle scuole. Quali sono le raccomandazioni che sta dando e che clima si respira? Allora il clima è davvero positivo sono ragazzi che sembrano usciti da una situazione di costrizione il fatto di vederli tutti senza mascherine per noi è anche un po' una cosa nuova. C'è area di consapevolezza della scelta fatta, c'è la voglia di iniziare questa novità del liceale, si sentono più grandi sto dando raccomandazione ai ragazzi di assumere atteggiamenti responsabili noi abbiamo condiviso anche quelle regole che il ministero ci ha indicato insomma per il primo periodo con uno scenario attuale o eventualmente con uno scenario di maggiore difficoltà. Per quanto riguarda la seconda crisi è un'incognita però è vero anche che noi certe scelte le avevamo anticipate perché ad esempio la settimana corta l'avevamo decisa tempo prima rispetto alla crisi energetica di contro come facevamo prima i progetti ad esempio extracurricolari continueremo a portarli avanti. Chiaramente dovessero esserci delle difficoltà, il scaldamento degli edifici, verrà fatto un nuovo calendario si provvederà a rimodulare un po' la tempistica dello svolgimento delle attività però in linea di massima credo che quest'anno veramente le attività possano continuare, possano riprendere in maniera ordinaria.